Buonasera, benvenuti all'ulteriore incontro di approfondimento con la storia e con l'arte al tempo del Covid-19. Questa sera avremo la possibilità di scoprire una storia antica. Nell'occasione del 251esimo anniversario della morte di Giovanni Battista Tiepolo, la dottoressa Sara Grinzato ci racconterà qualcosa di questo personaggio. Io intanto saluto i nostri ospiti, Sara Grinzato, buonasera Sara, e il Presidente dell'Associazione Cavaliere al Merito della Repubblica della Riviera del Brenta, Fabrizio Romoletto, a cui lascio la parola per dare il suo saluto. Buonasera a tutti, per prima cosa naturalmente volevo ringraziare il coordinamento delle associazioni storico-culturali della Riviera del Brenta del Miranese e Riviera al Fronte e ringrazio Moro della possibilità di partecipare a questa conferenza in modo da far conoscere anche la nostra associazione. Queste tre conferenze che abbiamo pensato sono state, sono cominciate il 3 giugno in memoria del Comendatore Iboneca Ciavillani, questa sera su Giovanni Battista Tiepolo, mentre giovedì 10 alle 18.30 sarà quello della presentazione del decimo volume. L'Associazione Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, associazione di promozione sociale Riviera del Brenta, questa è la nostra associazione, è un'associazione composta da cavalieri ma anche da simpatizzanti. Ci sono i cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, del Santo Sepolcro di Gerusalemme dell'Ordine di Malta e i nostri obiettivi sono, le nostre iniziative sono umanitarie, culturali e socio-recreative. Un'ultima iniziativa che stiamo intraprendendo, che stiamo incominciando a, che comincia a dare se vogliamo anche i primi frutti, è il Fondo Cacciavillani di Gennaro per la scuola. È un fondo che è stato costituito dal commendatore Cacciavillani, ma anche da Pampagni Vittorio, con i proventi della vendita del libro dei 200 modi di dire, che è un libro che è stato per le iniziative delle scuole esattamente, per le iniziative delle scuole verranno presentati dei progetti. Questa è una cosa molto importante e per cui noi vogliamo anche far conoscere questa iniziativa alle scuole, perché può dare un piccolo aiuto prelevato da questo fondo creato apposta, come ho detto, dall'iniziativa in questo caso di Vittorio Pampagni, che ha contribuito assieme a Cacciavillani a creare questo fondo. Ringrazio anche la famiglia comunque Cacciavillani perché si è interessata in modo da che questa iniziativa potesse continuare. Ecco, io non voglio portare via molto spazio a questa conferenza, in quanto parlare del Tiepolo nella nostra zona, poi anche perché lui era un pittore, come si dice, veneziano, per cui è un pittore molto importante nella nostra zona, un bellissimo rappresentante, e in questi noi ricordiamo i 250 anni, 251 esattamente, dall'anniversario della morte. Quindi io ringrazio la dottoressa Sara Grinzato di questa sua opera di questa sera e anche perché lei ha scritto anche altre cose che sono state pubblicate nella nostra collana, luoghi itinerari della Rivera del Brenta e del Miranese. Quindi io con questo ho concluso e auguro a tutti una buona serata e ascoltiamo con grande interesse quello che ci deve dire Sara Grinzato. Grazie. Bene, grazie allora al Presidente dei Cavalieri dell'Associazione. Io vado a presentare invece la nostra relatrice di questa sera dando due indicazioni soltanto su di lei. È storica dell'arte e restauratrice, si interessa di arte veneta, soprattutto settecentesca. Ha pubblicato alcuni saggi su Tiepolo, sui Tiepolo direi, nelle riviste specialistiche e nel 2019 anche il libro Tiepolo a piove di sacco. Mi piace ricordare anche la sua ultima fatica insieme con Mauro Manfrin, pubblicata proprio nelle settimane scorse, Finestre sulla Brenta, le vedute ottocentesche di Cristiano De Martens che lei non lo sa ancora ma avremo il piacere di promuovere anche nel mese di agosto una nostra kermesse letteraria, storico letteraria, che faremo appunto in presenza questa volta nei vari comuni della riviera del Brenta. Allora, visto che i tempi sono sempre molto stretti, io do il lancio a Sara per farci raccontare appunto la storia dei Tiepolo in riviera del Brenta. Buonasera a tutti, ringrazio l'associazione Cavaliere al Merito e l'architetto Draghi per l'invito a discutere Tiepolo nella riviera del Brenta nel Mirenese. È questo un argomento a me particolarmente caro, quindi ne tratto volentieri e ringrazio Enrico Moro per fare da moderatore gentilmente questa puntata. Gian Battista Tiepolo è considerato uno dei più grandi artisti del Settecento in Europa. Egli nacque a Venezia nel 1696 e morì a Madrid nel 1770. L'anno scorso, 2020, si è celebrato perciò il 250esimo anniversario della sua morte. Per l'anno che è stato tragico sotto molti punti di vista, tanti degli eventi pensati per la commemorazione dell'anniversario sono stati ridimensionati, alcuni sono stati annullati, altri posticipati. Ed è proprio sull'onda di queste posticipazioni che si inserisce la puntata nostra di questa sera. Ecco, giustificato questo titolo un po' bizzarro, 251esimo anniversario della morte dell'artista, siamo un anno in ritardo. Puntata che vorrebbe dar conto della produzione tiepolesca nel territorio del Veneziano e in modo particolare nella rigra del Brenta e del Miranese. Molte sono le opere che ancora possiamo vedere in situ, altre invece sono state portate via nel corso del tempo, in modo particolare tra fine ottocento e inizio novecento. Alcune sono opere di Giambattista Tiepolo, altre più propriamente del figlio Giandomenico. L'opera più celebre e a buon diritto che Tiepolo realizzò nella riviera del Brenta è senz'altro il grande salone da ballo affrescato di Villa Pisani a Stra. Tutti ricordano che la villa fu costruita tra gli anni venti e la fine degli anni cinquanta del settecento. I Pisani del casato di Santo Stefano avevano commissionato la costruzione del parco presso Stra nel mille settecento e venti a Girolamo Friggi Melica. Poi il progetto passa per questioni piuttosto complicate a Francesco Maria Preti che erige un enorme palazzo domenicale affacciato sulla Brenta. È un progetto elefantiaco per una villa veneta totalmente inusuale per la riviera del Brenta che mette in difficoltà economiche notevoli il casato che peraltro negli stessi anni era impegnato anche al rinnovo del loro palazzo principale in Santo Stefano a Venezia. Il cantiere architettonico della Villa Pisani si conclude nel 1759 e subito dopo inizia la campagna decorativa degli interni che vede coinvolta la bottega tiepolesca in maniera estesa, in senso lato. Conosciamo piuttosto bene la cronologia di questa opera. Nel 1760 Tiepolo scrive una lettera al caro amico Francesco Algarotti e nella quale dopo essersi lamentato di essere costretto a letto da un forte attacco di gotta, comunicava all'amico che presto si sarebbe messo a lavorare al modelletto per capisani. Esiste di fatto un piccolo olio su tela che è senz'altro un modelletto, un'idea che gli realizzò da sottoporre ai committenti ed è oggi in Francia al Musée des Beaux-Arts di Angers. In quella lettera Tiepolo stimava che questo enorme lavoro gli sarebbe costato dai 3 ai 4 anni di lavoro, ma non sarà così. Nel marzo del 1761 Tiepolo attraverso una lettera ci informa di essere sulle impalcature mentre dipinge questo grande salone di rappresentanza. Il marzo dell'anno successivo nel 1762 Tiepolo invece è in partenza per Madrid. Il 31 marzo del 62, non lo sappiamo, in viaggio verso Madrid con forti pressioni politiche. Tiepolo dovette spostarsi con la sua bottega dal Veneto in Spagna per servire Carlo III Borbone alla corte di Madrid e poi sappiamo che il grande maestro non fece più ritorno. Nel 1770 trovò la morte nella capitale spagnola. È probabile che Tiepolo lasciasse in qualche maniera in fretta e furia l'opera di Stra, al punto che specialmente la parte inferiore del salone è quasi completamente attribuibile a Jacopo Guarana che appunto coadiuvava il Tiepolo. È perciò questo salone realizzato tra il marzo del 61 e il marzo del 62 l'ultima grande opera civile che Tiepolo lascia a Venezia. Generalmente si commenta in modo particolare la scena soffittale, questo grande squarcio sul cielo popolato di allegorie, anche se il significato è piuttosto complesso e a mio bisogno non è nemmeno del tutto chiarito. L'identificazione delle allegorie è in qualche modo controversa e comunque molto discussa. Il messaggio in generale in ogni caso sembra essere la glorificazione della famiglia Pisani che per le loro qualità morali sono destinati ad essere celebrati in tutto il mondo. In un gruppo centrale ci sono diverse personificazioni di virtù, tralasciando quella principale con la cui identificazione canonica io non concordo, si vedono in questa slide ad esempio la fede, donna bianca vestita di bianco velata con in mano un libro e la giustizia con in mano spada e bilancia. Fanno da controaltare queste personificazioni di virtù una serie di squisiti ritratti di bambini, uno di loro è seduto in braccio ad un'altra figura allegorica che è Venezia, vestita proprio come una dogaresta con il manto dorato, il mantello di armellino e lo scettro in mano. Si è proposto di identificare questo gruppo di bambini come i quattro figli di Almorò III Alvise Pisani e Paolina Gambara e quindi si tratterebbe da sinistra a destra di Almorò I che sarà il continuatore del casato dei Pisani, politico e diplomatico da grande, il ragazzino seduto in braccio a Venezia, Elena, Almorò II detto Carlo ed Elisabetta. Invece l'altro ragazzo, qualche anno più maturo, seduto un po' in disparte, potrebbe essere il figlio di Almorò II e di Marina Sagredo, la chiacchieratissima Marina Sagredo. Questo ragazzino si chiamava Alvise II detto Andrea, era un artista, per lui la famiglia aveva creato un'accademia, morirà in giovanissima età, all'epoca dell'esecuzione degli affreschi aveva 16 anni. Dall'altra parte, rispetto a questi ritratti, vi sono le personificazioni dei continenti. In alto, in parte di questa slide, si nota l'Europa, seduta sopra un toro e accompagnata dalla civetta, la figura con il copricapo a forma di elefante è l'Africa, quella più al centro con un cappello di piume colorate e una faretra è l'America, più criptica l'identificazione della terza figura, che io credo siano le Indie orientali, ovvero sia l'Asia, anche se sono state proposte altre identificazioni. Al centro di tutto vi è una figura alata che suona e fa squillare delle trombe, è la fama, a ricordare o auspicare che la fama dei pisani possa durare in eterno. È un luogo emozionante, coinvolgente, che avvolge i visitatori in un'atmosfera di sogno. Quando si entra in questo grande salone si può immaginare ancora l'orchestra che suona disposta attorno al ballatoio superiore, si può immaginare i pisani che danzano con i loro ospiti o che accolgono personalità di spicco e di importanza politica. Ricordiamo tutti che la villa per questioni finanziarie fu venduta dai pisani all'inizio dell'Ottocento alla corona napoleonica, ma le ambizioni e gli auspici di questo importante casato veneziano continuano a vivere nell'arte di Tiepolo. L'altro grande complesso che Tiepolo realizzò in Riviera fu la decorazione ad affresco della villa con Tarini Pisani Foscarini ai Leoni a Mira. Le tre famiglie che ho nominato sono coloro che maggiormente contribuirono alla storia di questo complesso. I Contarini vissero in questa dimora a Mira nel corso del Cinquecento e organizzarono quell'evento che fece passare la casa nella storia nei secoli, ovvero sia il 28 luglio del 1574 Federico Contarini ospitò il re di Francia Enrico III Valois. Il re di Francia Enrico III nelle settimane precedenti era stato accolto con grandi fasti a Venezia e più tardi fu invitato da alcune famiglie nobili a villeggiare lungo il Brenta. Fu ospite dei Foscari presso la loro nuova villa a Malcontenta e fu ospite di Federico Contarini in questa loro casa di Mira. I Pisani dimorarono in questa casa nel Settecento e sono coloro che assegnarono al Tiepolo la decorazione interna e in tal modo facendo passare alla storia la casa anche per motivi artistici. Infine i Foscarini la vissero tra la fine del Sette e l'inizio dell'Ottocento e furono probabilmente coloro che decorarono la scalea meridionale con i famosi leoni, famosi perché ancora oggi in questa villa è chiamata la Villa dei Leoni, no? Villa Contarini, Pisani Foscarini e i Leoni. Quest'immagine che vi sto mostrando è tratta da un diario di Cristiano De Martens, è del 1830 ed è, noi crediamo, io e Mauro Lanfrin che recentemente abbiamo scritto circa il lavoro di Cristiano De Martens per la riviera del Brenta, una delle primissime testimonianze iconografiche della presenza di questi leoni sull'entrata, presso l'entrata della villa. I leoni esattamente come gli affreschi non sono più in situ, questo perché nel 1893 la coppia di collezionisti francesi Nelly Jacques Mar e Edouard André li fece strappare per portarli nel loro hotel particulier, ovvero sia nel loro palazzo privato a Parigi, dove tuttora si conservano, oggi è il celebre museo André Jacques Mar a Parigi. Sara, posso interromperti perché mi sono incuriosito quando tu hai detto che questi affreschi sono stati spostati, ma come si fa a spostare un affresco? Io me lo immagino come un dipinto su una parete, non riesco a capire, scusami la mia ignoranza, come sia possibile spostare appunto una parete. Esatto, grazie Enrico per il tuo intervento. In effetti l'affresco dovrebbe essere inamovibile, in realtà nel corso del tempo gli affreschi sono stati resi mobili in tali uni casi. Ci sono per sintesi tre possibilità, tre tecniche per rimuovere un affresco dal sito in cui è stato creato. La prima tecnica è chiamata stacco a massello, per cui si va a togliere l'affresco con una parte della muratura, è paradossalmente la tecnica che più preserva l'intonaco affrescato ma che chiaramente compromette invece l'architettura, perché significa proprio sventrare parte della muratura per rimuovere l'affresco. La seconda tecnica è detta stacco, stacco semplice, per cui si passano delle lame, delle spatole dietro all'intonaco, tutti gli strati di intonaco in modo tale da separarli dalla muratura. È evidente che l'intonaco poi non sta in piedi da solo per cui deve essere applicato, fatto aderire ad un altro supporto che è tipicamente legno o elaborato del legno. La terza tecnica è quella probabilmente più adoperata, specie nell'Ottocento, è quella dello strappo ed è quella adoperata anche nel caso di Villa Contarini Pisani ai Leoni. Contarini Pisani, scusatemi, Foscarini ai Leoni. Ovvero sia, si fanno aderire con delle colle delle spesse tele sull'affresco e si lascia asciugare la colla e poi si strappa via la tela, presso cui rimane appiccicato, potremmo dire, il primo pelo dell'opera d'arte, quindi pochissima materia, quei pochi granelli di sabbia e quel poco di calce che ha assorbito i pigmenti. Poi è evidente che così facendo l'affresco è a rovescio, quindi bisogna farlo aderire ad un altro supporto che può essere anche in questo caso un pannello di legno oppure una tela per poi rimuovere le tele che sono servite allo strappo. È un'operazione particolarmente complessa che danneggia in maniera irreversibile gli affreschi, è evidente che un affresco di grandi dimensioni debba essere strappato in più porzioni con tutto ciò che ne consegue poi perché rimettere insieme le varie sezioni non è cosa così semplice e inoltre adoperando uno strappo si vanno a perdere le tantissime finiture a secco che tipicamente i pittori fanno in conclusione del proprio lavoro. Questi affreschi quindi sono stati strappati e portati a Parigi. Oggi in loco a Mira ci sono dei pannelli che ricordano questi affreschi che non ci sono più. In queste immagini vedete gli affreschi originari di Mira che decorano lo scalone che porta al piano primo del museo André Jacques Mar. Che cosa rappresentavano questi affreschi? La parete principale, quella a destra in entrata, raffigurava quell'evento così celebrato che aveva reso famosa la dimora, ovvero sia l'arrivo del re di Francia Enrico III Valois. Al centro della composizione si vede il re e tutto intorno nobiluomini, nobildonne abbigliati in vesti lussuose, particolarmente veronesiane, perché vi è un forte revival dell'arte cinquecentesca in questo momento, sia da parte di Tiepolo che in generale da parte degli artisti veneziani. Chi siano quei bei personaggi che attorniano il re è un po' un mistero. Lo stesso Francesco Algarotti, amico del Tiepolo, che scrisse e descrisse questi affreschi pochi anni dopo la loro esecuzione, mise per il scritto che questi erano i contarini, ma in realtà i pisani, quindi non è da escludere che ci sia stato un po' un gioco da parte della committenza. Storicamente questi personaggi ad accogliere Enrico III erano i contarini, ma i pisani, committenti del Tiepolo, hanno probabilmente sostituito le loro facce per essere loro stessi immortalati. Si è discusso molto ad esempio di quella bella figura muliebre vestita di bianco, un po' più a sinistra rispetto al re di Francia e potrebbe essere la moglie del committente, Lucrezia Corner, che sposò Vincenzo I Sebastiano Pisani nel 1750. Sul soffitto una balaustra con diversi personaggi che partecipano idealmente a questo incontro tra i contarini e il re di Francia e tra questi personaggi anche un possibile autoritratto del Tiepolo. Lo vedete nel dettaglio più piccolo a destra della slide, questo personaggio che indica qualcuno da basso è quasi certamente un effigie di Gian Battista Tiepolo, accompagnato da un servo moro che molto probabilmente era Alim, il suo vero servo moro, un ragazzo giovane che Tiepolo si era preso in casa, aveva fatto battezzare e poi si era tenuto a servizio. Così facendo, avendo venduto in Francia questi affreschi, abbiamo perso anche un autoritratto del Tiepolo in riviera. Altra opera tiepolesca recentemente emersa dietro una tamponatura è una porzione di affresco presso la villa Migliorini-Giagrimani a Dolo. Qualche anno fa, durante dei lavori di restauro, rimuovendo dell'intonaco che tamponava questa lunetta, è emerso questo affresco che il professor Pavanello ha attribuito a Gian Battista Tiepolo. Se guardate l'immagine in alto a sinistra, il numero 62 del primo volume di incisioni, le delizie del Brenta di Gian Francesco Costa, vi si mostra la situazione settecentesca nella quale Tiepolo probabilmente operò. Quindi la casa aveva due oratori, quello situato più a destra per noi era dedicato a Filippo Neri e aveva una facciata che si sviluppava lungo la muratura, cioè una facciata che era in linea con il resto della muratura. L'oratorio fu poi demolito e probabilmente questo affresco era pertinente al muro settentrionale dell'oratorio o forse al muro di sacrestia. È chiaro quindi che questa bella colomba che irradia luce e queste due testine d'angelo non possono che essere un piccolo lacerto, un frammento di un complesso più grande che è stato demolito nel corso del tempo. Tiepolo è un grande frescante, un affrescatore rinomato e richiesto non solo nelle Venezie ma anche altrove, però Tiepolo è anche un grande esecutore di opere su tela. Una notevole pala d'altare è quella che la bottega Tiepolesca realizzò per la parrocchiale di Mirano. È un'opera che ancora oggi possiamo vedere nella chiesa di San Michele Arcangelo di Mirano, presso il terzo altare addossato sulla parete destra, un'opera che è stata molto discussa in quanto per qualcuno è opera interamente di Gian Domenico Tiepolo. Io credo invece, insieme a molti altri, che questa sia opera del padre Gian Battista e raffigura un episodio particolare della geografia di Sant'Antonio che tutti sappiamo essere uno dei santi taumaturghi più venerati al mondo e un santo particolarmente amato nella nostra terra che ne serva le reliquie. Racconto questo aneddoto perché è poco diffuso nella raffigurazione artistica. Un ragazzo di nome Leonardo che viveva a Padova, un giorno preso da uno scatto d'ira, calciò sul ventre la madre e la fece cadere. Assistito a questo episodio, Sant'Antonio redarguì fortemente il ragazzo ed esclamò che quel piede che aveva compiuto quel tremendo gesto avrebbe meritato di essere tagliato. Leonardo, preso dai sensi di colpa, prese una scure che dovreste riuscire a vedere nell'immagine quella meno in dettaglio sulla sinistra e si tranciò così il piede. A quel punto la madre disperata che vide il figlio cadere per terra e perdere i sensi e quasi rischiava di morire di sanguato, chiama Sant'Antonio e gli chiede il miracolo. A quel punto Sant'Antonio prende in mano il piede così come lo raffigura Tiepolo, con l'altra mano compie un gesto benedicente e dopo aver invocato il Signore gli riattacca il piede, a tal punto che Leonardo pochi istanti più tardi poteva alzarsi in piede e tornare a camminare. Questa tela, probabilmente realizzata alla fine degli anni 40 del 700, pochissimi anni dopo fu ingrandita. Vuol dire che quando Tiepolo la realizzò era di un formato diverso, era rettangolare ed era molto più piccola, non aveva questo scalino in mezzo nella parte inferiore e non aveva due fasce laterali. È accaduto che pochi anni dopo la realizzazione del Tiepolo la chiesa si volesse rinnovare di aspetto e fossero commissionati dei nuovi altari e quindi la tela del Tiepolo fu allargata in modo tale da andare a coprire la centina del nuovo altare marmorio più grande. In questa maniera noi oggi non l'apprezziamo particolarmente perché quest'opera naviga un po' nell'ambito di questo altare così grande che chiaramente gli è sproporzionato. È un'opera comunque di altissima qualità che va assolutamente conosciuta e apprezzata. Ora direi che è giunto il momento di dedicare qualche parola a Giandomenico Tiepolo, il quale ebbe un rapporto particolare con la terra miranese e in modo speciale con Zia Nigo. Ecco Sara, un'altra domanda che mi viene e che mi ha sempre incuriosito. Come mai questi personaggi così famosi e importanti si dedicavano anche ad attività in piccoli paesi come erano quelli che hai nominato prima, ma soprattutto un paesino piccolissimo come era Zia Nigo. Sì, allora Tiepolo in realtà soprattutto tra anni 20 e anni 30 quando non è ancora una celebrità dipinge moltissimo per l'entroterra veneziano. Qualcuno l'ha definito un po' una gavetta, no? Qualcun altro spiega questa attività di Tiepolo nell'entroterra con il fatto che non ci fossero troppe commissioni disponibili a Venezia e per cui si accettavano anche cose che sotto certi fari possono sembrare meno prestigiose. E poi dobbiamo anche capire invece che era un orgoglio per le comunità commissionare delle opere d'arte ad artisti di fama, per cui molti erano disposti a spendere cifre importanti per avere una pala del Tiepolo sul proprio altare. Il caso di Zia Nigo è speciale perché di fatto Gian Battista Tiepolo alla fine degli anni 50 del Settecento comincia ad investire i propri proventi dalle tante commissioni veneziane in terraferma e compra diversi svariati campi nel Padovano e compra anche una casa di veleggiatura a Zia Nigo. Di fatto lui segue quella che è una vera e propria moda non solo nobiliare di avere una casa di campagna, una casa di ricreazione. Sono moltissimi gli esponenti non nobili che seguiranno questa moda, esponenti della classe cittadinesca piuttosto che alta borghesia, piuttosto che la classe artigiana. Ecco Tiepolo compra una casa di veleggiatura a Zia Nigo. Si suole dire che non fece in tempo a godersela poi così tanto perché l'acquistò nel 1757 e poi lui nel 62, quindi 4-5 anni più tardi, partirà per Madrid per non fare più ritorno nel Veneto. Invece pare che a gioire di più di questa casa in Zia Nigo fosse il figlio Gian Domenico. Quando Gian Battista parte per Madrid si porta a parte della bottega e si porta i due figli artisti appresso Gian Domenico e Gian Lorenzo. Mentre Gian Lorenzo rimane a Madrid e si sposerà a Madrid e morirà peraltro in giovanissima età, però continuerà a lavorare fino alla morte presso la corte spagnola, Gian Domenico decide di tornare a casa e passerà in modo particolare il suo tempo a Zia Nigo. Tante volte si è sottolineato come Gian Domenico Tiepolo si fosse ritirato in questa piccola località perché incapace di trovare altre commissioni. La critica d'arte molto spesso ingiustamente ha speso parole particolarmente aspre, specialmente nei decenni passati, nei confronti di Gian Domenico Tiepolo. Un artista che sembra non essere capace di emanciparsi dalla bottega del padre, un artista che sembra una volta tornato nel Veneto non essere in grado di adeguarsi all'incipiente stile neoclassico, ciò nonostante è chiaro che è una personalità che si è inserita pienamente nello stile tiepolesco e di questo stile voleva continuare a vivere. Pertanto fino alla fine della sua vita, per quanto le sue commissioni fossero ridotte rispetto alla molle della bottega tiepolesca, continueranno a sopravvivere. E tra queste commissioni vi è questa bella pala di Zia Nigo, che oggi è un po' faticoso apprezzare perché sta in una posizione particolarmente elevata presso la parrocchiale di Zia Nigo e raffigura cinque santi. Nel dettaglio di destra doveste riuscire a riconoscere il santo vestito con un saio marrone che tiene in mano un bastone il quale culmina con un grande clipeo dorato con scritto Caritas e San Francesco di Paola. Quello sulla sinistra con il giglio e il bambino è ovviamente Sant'Antonio da Padova, quello più in basso con il crocifisso in mano è San Giovanni Nipomuceno, quello sulla destra che ha la mano al cuore e una fiammella sulla testa è San Vincenzo Ferrer, mentre quello in abito sacerdotale dovrebbe essere San Valentino che ha commemorato altrove nella chiesa. Zia Nigo ha anche il soffitto che è un'opera di Giandomenico Tiepolo, un'opera che oggi è difficile da giudicare in quanto ha subito diverse traversie. La chiesa all'inizio del Novecento subì un arretramento della facciata e quindi l'affresco fu accorciato e manomesso. Rappresenta nella parte inferiore la natività della Vergine, perché la chiesa è dedicata alla natività della Beata Vergine Maria, quindi distesa su un letto si vede Sant'Anna, le balie tengono Maria Bambina in braccio e poi via la figura del padre Gioacchino che alza le braccia in segno di ringraziamento, al centro della composizione Dio padre e tutto intorno una serie di simboli mariani. Gian Domenico lasciò diverse altre opere che per limiti di tempo non commentiamo, ma senza dubbio la più rilevante fu quel complesso di affreschi che lui realizzò per se stesso. Se è vero che aveva più tempo, che era meno uberato di lavoro rispetto a quando operava insieme al padre, è vero anche che Gian Domenico ha uno stile diverso rispetto al padre e che dimostrò in maniera evidente sui muri di casa propria. La casa che lui abitò era interamente affrescata da lui stesso, in parte realizzata prima del viaggio a Madrid e in parte e soprattutto successivamente quando tornò nel Veneto. Questi dipinti oggi non si trovano più in situ, anche questi subirono un destino molto simile alla villa Contarini, Pisani, Foscarini ai leoni di Mira perché furono strappati dallo stesso restauratore, peraltro lo Stefanoni, su commissione di un antiquario francese. Fortunatamente il Ministero dell'Educazione dell'epoca fece in tempo a bloccarne la vendita e l'espatrio per cui oggi possiamo vedere queste opere presso Carezzonico, il Museo del Settecento Veneziano a Venezia. Se il padre Gian Battista è un artista che ama celebrare le virtù dei committenti, usa un linguaggio allegorico piuttosto complesso, si è sempre voluto sottolineare come Gian Domenico fosse in una qualche maniera più legato al reale, avesse uno sguardo più posato per terra. Forse mai come negli affreschi di Zianigo questo è evidente. Due sono forse gli affreschi più celebri tra i tanti che realizzò, questo che state vedendo è il mondo nuovo. Una serie di personaggi stanno vivendo quello che può essere considerata una scena di paese, c'è una mescolanza tra personaggi popolani, maschere di carnevale, personaggi invece di uno stato sociale più elevato, sono tutti in fila per andare a vedere, aspettando il loro turno, da questa finestrella di quello che i veneziani chiamerebbero uno sgabiotto che non è altro che un diorama, un esperimento di pre-cinema. Estranea il fatto che tutti questi personaggi ci diano le spalle, nessuno stia coinvolgendo in alcuna maniera l'osservatore. Allora si è voluto vedere in Gian Domenico Tiepolo anche un artista che finalmente libero dai vincoli di committenza potesse in una qualche maniera esprimere la sua, farci capire il suo pensiero e il suo pensiero è leggermente critico nei confronti della sua società contemporanea. Quello che Gian Domenico Tiepolo vede è una società che si perde via, una società che è quasi un gregge, tutti fanno le stesse cose e non ci si rende bene conto di quello che sta accadendo veramente e Venezia sta pian piano, declinando e arrivando alla sua fine. Si è allora voluto vedere un certo profetismo in questi affreschi e da questo punto di vista il camerino dei Pulcinella è certamente l'esempio più impressionante. Un'intera sala che rappresenta dei Pulcinella in atteggiamenti di divertimento. Pulcinella è quella maschera della commedia dell'arte poco affidabile, che litiga sempre, un personaggio a cui non affidereste mai niente di serio, che spende tanto tempo in divertimento, in vino, al circo. Insomma, si è pensato che forse Gian Domenico Tiepolo vedesse questo nella società dell'epoca, una società in maschera, devota al divertimento e non cosciente di quello che stava realmente accadendo. Questi affreschi, quelli del camerino, furono realizzati nel 1797, che vuol dire immediatamente prima o immediatamente dopo la caduta della serenissima per mano di Napoleone Bonaparte. Una società allora appesa a un filo, proprio come questo Pulcinella che si sta dondolando per divertimento su una corda. Basta un movimento sbagliato, una folata di vento in più e si cade. Io concludo dicendo che l'arte del Tiepolo è un'espressione piena e sublime della cultura veneta del Settecento. Conoscerla, studiarla, sostenerla nella ricerca, divulgarla è fondamentale, è un atto di presa di coscienza collettiva. Ciò serve da una parte a conservarla meglio e dall'altra a evitare che accadano atti come la dispersione della grafica, il furto di documenti d'archivio oppure la distruzione delle opere d'arte stesso. Con questo io concluderei. Vi ringrazio per l'ascolto. Sara, io ti ringrazio tantissimo. Ci sono dei commenti molto positivi chiaramente sulla tua interpretazione. C'è anche una curiosità di un ascoltatore che chiede se il Tiepolo ha avuta la commissione, la seguiva pedissequamente o era un artista diciamo ribelle in corso d'opera? Allora, io provo a… ecco, adesso vi vedo, altrimenti non vi vedo. Allora, io generalmente dico che fare l'artista è un mestiere e si fa l'artista per essere pagati. Si scontenta il committente e non si viene pagati. Quindi tendenzialmente l'artista ha certamente un margine di libera espressione, ma questo è sempre tenuto all'interno di quei paletti che ha messo il committente. Quindi l'artista ribelle è sicuramente no. Certo, dovevano vivere anche loro, per cui è chiaro che seguivano alcune indicazioni. Allora, io volevo ringraziare chiaramente anche l'Associazione Cavaliere della Repubblica per il loro supporto a queste giornate, a queste serate. Vi ricordo che la serata di questa sera, come tutte, è stata proposta su YouTube e rimarrà lì nel canale social di Riviera al fronte. Quindi saluto il rovoletto dell'Associazione Cavalieri, naturalmente saluto tantissimo Sara Grinzato, l'aspetto a un prossimo appuntamento e con questo saluto anche tutti i nostri ascoltatori. Ciao. Grazie. Buonasera, grazie a voi. Grazie.